Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire parlando di sanità e dei tagli decisi dalla struttura commissariale a carico della Cattolica. Nei confronti della struttura cresce infatti la mobilitazione. Il consigliere comunale di Campobasso Tramontano ha chiesto una seduta monotematica del Consiglio mentre per giovedì è previsto un incontro pubblico nella Sala della Costituzione. In apertura Anna Maria Di Matteo. Non c'è solo la sanità pubblica da difendere dalla scura e dei tagli contro il decreto commissariale che riduce per il 2016 di oltre 2 milioni e mezzo il budget destinato alla Fondazione Giovanni Paolo II è partita la mobilitazione. Il consigliere comunale di Campobasso Alberto Tramontano ha chiesto la convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale con la quale rivendicare il ruolo strategico che la Cattolica riveste per la sanità molisana e per quella extra regionale. Per Tramontano il taglio delle risorse deciso dal commissario Frattura comprometterebbe l'equilibrio economico della struttura con il suo conseguente indebolimento dal punto di vista delle risorse umane oltre che finanziarie. Il tutto con gravi ripercussioni sulle prestazioni all'utenza. La Cattolica è un'eccellenza molisana e un patrimonio della città di Campobasso ha ricordato il consigliere comunale. La gran parte dei 480 lavoratori sono molisani. La struttura ha proseguito all'attivo 100.000 ricoveri, circa 5 milioni di prestazioni ambulatoriali e vanta un migliaio di pubblicazioni scientifiche e un centinaio di progetti di ricerca. I pesanti tali decisi dal commissario provocherebbero la perdita di specialità di eccellenza come la cardiochirurgia e radioterapia e l'allarme di Tramontano che dunque ora sollecita il Consiglio Comunale ad assumere una posizione in difesa della struttura privata come fece peraltro in passato per il Cardarelli e per la sanità pubblica. Dopo il sostegno dell'arcivescovo Bregantini, la Cattolica incassa anche quello del Movimento Cittadini per la Sanità di Qualità che ha organizzato per giovedì alle 17.30 un incontro pubblico a Campobasso. Nella Sala della Costituzione il primo passo, dicono i promotori, verso una grande mobilitazione perché, aggiungono, i molisani vogliono continuare a curarsi nella loro regione senza essere costretti a riprendere i viaggi della speranza. La richiesta che arriva dunque da più parti è perentoria, frattura, revochi il provvedimento. Voltiamo pagina. Un bimbo di tre anni di origine, ivoriana, ospite di un centro di accoglienza per migranti di Campobasso, è stato sottratto con forza alle cure dei medici dell'ospedale Cardarelli e portato via. Un gioco di squadra tra agente della questura, direttore sanitario e un'infermiera del reparto di pediatria ha impedito il peggio e ha consentito di ritrovarlo. I fatti, questa mattina, il bimbo è stato prelevato con forza da una donna di colore che ha detto di essere la nonna. Al no del personale sanitario, in quanto mancavano notizie certe sul reale grado di parentela in corso di accertamento da parte del Tribunale dei Minori e dei Servizi Sociali, la reazione violenta. Immediato l'allarme, la donna nel frattempo era riuscita a uscire dall'ospedale portando con sé il piccolo rimasto senza genitori. Dai primi accertamenti, la madre sarebbe morta in uno dei tanti viaggi della Speranza, mentre il padre risulta deceduto in Costa d'Avorio. Dopo il voto referendario, la casta corre ai ripari sul tema del taglio delle indennità. Presentata in Regione, una proposta di legge al momento unico firmatario, il consigliere Nico Ioffredi, un intervento di facciata che abbassa di soli 2.500 euro le spese base per consigliere, portandola da 11.250 euro al mese a 8.750. E allora sentiamo Pasquale Di Bello. Dopo la valanga di No, con la quale il popolo ha seppellito Renzi, la riforma Renzi e Maria Elena Boschi, che le aveva dato il nome, la casta regionale corre ai ripari. A firma del consigliere di Sinistra Ecologia e Libertà, Domenico Ioffredi, è stata presentata una proposta di legge tesa a modificare le indennità dei consiglieri regionali. Di soli 2.500 euro il taglio complessivo, che porterebbe così la spesa base dagli attuali 11.250 euro agli eventuali 8.750 per ciascun consigliere. Un intervento, come si comprende, tardivo e di facciata. Va detto che tra i samurai regionali, Ioffredi è l'unico a tentare questo parziale Arachiri, gli altri se ne guardano bene, a cominciare dal presidente Frattura, che al referendum ha sostenuto il sì con l'intento, a chiacchiere, di ridurre i costi dei paperoni regionali. Una finta quella di Frattura è a benvedere quella di Ioffredi, che nel corso di una conferenza stampa ha detto di essere pervenuto a tale gesto dopo aver girato in lungo e largo il Molise e aver compreso come i tempi siano cambiati. La crisi morde alle caviglie, ha detto, guardandosi scarpe, calzini e pantaloni perfettamente a posto. A Ioffredi, tuttavia, va dato atto di essersi svegliato da un letargo durato 44 mesi, tanti quanti quelli trascorsi dall'insediamento della consigliatura regionale in corso. 44, moltiplicato per la base minima pro capite per ciascun consigliere regionale, fa la iperbolica cifra di 495 mila euro spesi solo per il consigliere Ioffredi. Mezzo milione di euro, un miliardo delle vecchie lire, la cui contropartita in favore dei cittadini nessuno ha ancora compreso. Al netto dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, gli unici che effettivamente e sin dall'inizio hanno ridotto pesantemente la propria indennità, e considerati gli emolumenti ancora più consistenti che riguardano il Presidente della Giunta e quello del Consiglio, che viaggiano a 13.500 euro al mese, aggiunta la spesa per gli assessori esterni, in tre anni e mezzo il Molise ha speso circa 11 milioni di euro. Quasi due volte il prezzo a base d'asta per acquistare lo zuccherificio del Molise, ovvero una delle tante aziende in crisi della regione. Considerato che il reddito medio anno di un molisano è stimato attorno ai 9.000 euro, la proporzione, o meglio la sproporzione, appare in tutta la sua agghiacciante realtà. In un mese un consigliere regionale del Molise porta a casa quello che un molisano porta a casa in un anno. E anche qualcosa di più. Sono passati 44 mesi dall'inizio di questa consigliatura, a ricordarlo è lo stesso Ioffredi. 44, come i gatti di una famosa canzone, e a ben guardare, gli inquilini del palazzo, più che consiglieri regionali, da come se la ridono, sembrano i vincitori dello zecchino d'oro. E intanto, restando la pagina politica, i riflettori restano puntati su ciò che sta accadendo e che accadrà nelle prossime ore al Quirinale. Frenata nel Partito Democratico con la prospettiva del congresso a primavera, sentiamo Giovanni Di Tota. Sono le ore, quelle passate dal momento del discorso di mezzanotte di Matteo Renzi, di un ritorno al politichese. Un linguaggio che negli ultimi tre anni, almeno, sembrava ricoperto dalla polvere del disuso ed è invece tornato ad essere centrale nel momento della crisi. Governo di non sfiducia, una formula che riporta le lancette indietro di decenni e che riecheggia le larghe intese, le convergenze parallele e via cantando. Fatto è che i riflettori della politica sono puntati sul colle e nel PD, la frenata imposta da Renzi, segretario, ha raffreddato anche i bollenti spiriti che si erano accesi in periferia. Tutto passa dalla soluzione della crisi e da quando si deciderà di tornare alle urne. In Casa Partito Democratico il congresso è in programma a marzo, ma con elezioni anticipate a prima di quella data, tutto verrebbe azzerato. Una fetta consistente del partito, anche a livello locale, attende di fare la conta, per alcuni la resa dei conti, proprio all'inizio della primavera. E in assenza delle dimissioni della segretaria, chieste a voce per ora singola dal deputato Danilo Leva, Micaela Fanelli continuerà a restare alla guida del PD regionale. Il parlamentare di Fornelli l'ha messa ormai nel mirino e dopo la batosta delle amministrative, la seconda elezione persa in malo modo dal PD anche in Molise, ha fornito la seconda occasione per chiedere il conto. Uno schianto fragoroso, lo ha definito Leva, che rivela quanto i cittadini siano per niente contenti del governo Renzi e di quello Frattura. Dopo la liturgia delle consultazioni al Quirinale, con annessi orpelli da Prima Repubblica, la strada del congresso e della conta interna del Partito Democratico sarà il secondo snodo. Leva fuori dal paramento ha già gonfiato il petto, ancora con il tasto pausa premuto il senatore Roberto Ruta. È da questo binomio, con la variante della deputata Laura Venitelli, che il PD locale potrebbe reindirizzare il timone della rotta. E se quando le elezioni si vincono il carro si affolla, è facile da immaginare che dietro l'armata renziana di governo le truppe si conteranno sulle dita. Quattro querele all'indirizzo del consigliere di minoranza al comune di Montenero di Bisaccia, Nicola Dascanio. Secondo l'esponente di opposizione, si tratta di un uso strumentale di un grimaldello giudiziario per contrastare il suo legittimo controllo amministrativo sui temi che vanno dalla centrale a Biomasse alla nomina di un dirigente comunale. Ce ne parla Fabrizio Occhio Nero. Una sorta di pioggia di querele per contrastare l'operato di un consigliere di opposizione che esercita una funzione pubblica. Così Nicola Dascanio, capogruppo di Montenero Vince, interpreta i quattro atti giudiziari presentati a suo carico per il reato di diffamazione. Al centro delle querele ci sono, tra le altre cose, la questione della centrale a Biomasse, le procedure per scegliere un dirigente comunale e altri temi portati avanti in campagna elettorale o in altri contesti. Due sono state presentate a vario titolo dal sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini e le altre dalla società che gestisce l'impianto e dall'assessore regionale Vittorino Facciolla. Secondo l'esponente della minoranza, il grimaldello giudiziario non può fermare un legittimo controllo amministrativo portato avanti da un consigliere eletto dai cittadini. Dal numero viene spontanea la risposta. C'è un tentativo praticato anche attraverso altri strumenti di imbavagliare l'opposizione. Noi questo lo stiamo denunciando da tempo e si ricorre alla querela quasi per intimidire. Noi non ci faremo intimidire, chiaramente, perché riteniamo di salvaguardare gli interessi dei cittadini che sono interessi importanti, quelli legati all'ambiente, e quindi alla salute. Sono interessi legati al lavoro, a come si fanno i concorsi pubblici. Sono interessi che hanno fatto di questa comunità più momenti di rivendicazione e purtroppo, in assenza di risposte, questa comunità si va sempre più assottigliando perché c'è tanta gente che va via. In questa vicenda giudiziaria da Scania ho assistito dagli avvocati Simone Coscia, Nicolino Di Bello e Danilo Leva che non ha potuto presenziare all'incontro. Temi quello della centrale a Biomasse e della vicenda del Comune come ribadito dai legali che sono posti al centro dell'attenzione della magistratura. Il dato politico è dato da un'amministrazione che ha fallito, dal mio punto di vista, la sua azione amministrativa. tante risposte sono rimaste in evase e soprattutto un'amministrazione che è debole e espressione di una debolezza sul piano programmatico ed anche sul piano politico perché c'è in questa amministrazione il tentativo di sviare gli interessi pubblici attraverso questo ricorso. Quindi il ricorso c'è allo strumento giudiziario per non far discutere l'opposizione e quindi la cittadinanza sui problemi reali che questa comunità presenta. Da Scagno ha evidenziato anche un altro aspetto. Ritengo che questa occasione per noi possa significare anche l'opportunità di parlare di queste cose alla luce del sole davanti alla giustizia. È una cosa molto importante. Il vicepresidente dell'associazione costruttori edili del Molise Carmine Abiuso e il direttore Gino Di Renzo hanno incontrato il direttore dell'agenzia regionale post-sisma Manuel Brasiello per illustrare la situazione di difficoltà delle imprese che ancora non riscuotono la tranche di 13 milioni di euro recentemente trasferita dal governo centrale per la ricostruzione pur trovandosi spiegano i vertici ACEM a dover fronteggiare le scadenze e i pagamenti di fine anno ormai imminenti senza la liquidità necessaria. Sono arrivate assicurazioni circa la liquidazione alle imprese che dovrebbe avvenire prima di Natale. Parliamo ora di scuola perché Frattura ha annunciato lo stanziamento di un milione di euro per un piano dell'ufficio scolastico regionale volto a potenziare le materie matematica e italiano. Non mancano tra gli addetti ai lavori perplessità e dubbi infatti quello che chiedono insegnanti e dirigenti scolastici è che la scuola non venga mercificata e le decisioni vengano prese coinvolgendo la base cioè chi la vive la scuola ogni giorno sentiamo Tonino Danese qualche giorno fa il governatore Frattura con toni euforici annunciava lo stanziamento di un milione di euro per il piano predisposto dall'ufficio scolastico del Molise per accrescere e potenziare le competenze scolastiche di base italiano e matematica poco meno di un anno fa un altro piano quello per la lingua inglese che stando alle riflessioni di molti addetti ai lavori non è niente altro che un supermarket di offerte speciali per conseguire delle certificazioni certificazioni previste fino ai primi due anni delle superiori e che proprio per questo valgono ben poco se non niente ai fini dei titoli del curriculum per gli studenti infatti questi tendono a conseguirli negli ultimi due anni delle superiori così che possano essere davvero utili e spendibili all'università o nel lavoro mentre il pacchetto inglese tra l'altro ancora non decolla nelle scuole ecco pronto l'altro riguarda due materie nevralgiche e traghettanti nella scuola italiana che riportando le dichiarazioni di frattura saranno recuperate grazie all'attraente offerta formativa che punta sulla possibilità dell'ampliamento del tempo scuola con nuovi e ulteriori interventi didattici e laboratoriali chi ha a cuore la scuola e la vive ogni giorno ovviamente verificherà con scrupolo l'offerta dell'ufficio scolastico ascoltando insegnanti e dirigenti scolastici vengono da fare alcune considerazioni alla luce delle entusiastiche parole del presidente della regione la prima è che i dati Ocse Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico smentiscono l'impianto del progetto più tempo scuola non porta automaticamente a una migliore preparazione i risultati della campagna per fare un esempio la quale ha beneficiato per anni di valanghe di finanziamenti PON dimostrano che i soldi non garantiscono risultati è evidente invece che bisogna garantire la giusta mercede ai docenti ma non mercificare la scuola in Molise poi ci sono scuole che nell'autonomia sono al di sopra degli standard nazionali proprio in matematica e italiano realtà che evidentemente l'ufficio scolastico non conosce da cui potrebbe invece prendere spunto per elaborare modelli per le buone pratiche invece che riferirsi a modelli esterni da cui attingere infine altra considerazione il tempo scuola della ministra Giannini molto sponsorizzato serve come strumento per contrastare il disagio sul piano sociale soprattutto nelle zone periferiche a rischio dell'Italia e delle grandi città ora quel che si fa notare a frattura ascoltando sempre gli addetti ai lavori la cosiddetta base da cui troppo spesso la politica è distante è che le scuole con i loro professori e presidi stanno da sempre ogni giorno in prima linea per consentire proprio ciò che lui il governatore adesso ricorda recuperando la nostra costituzione secondo la quale appunto operano la scuola è proprio uno degli strumenti essenziali assieme alla sanità pubblica che lavora per garantire l'ascensore sociale la giustizia sociale forse questo però la politica se lo dimentica quando cala dall'alto le sue riforme i suoi piani riempiendosi la bocca con parole e proclami che spesso tali rimangono intanto le mamme del comitato scuole sicure di Isernia hanno incontrato il prefetto guida consegnando al rappresentante del governo centrale tutta la documentazione in loro possesso il prefetto ha dimostrato di conoscere perfettamente l'argomento e ha rassicurato il comitato affermando che effettuerà tutti i riscontri necessari sia presso la provincia che presso il comune ce ne parla Enzo Di Gaetano hanno sottoposto al prefetto i dati in loro possesso la documentazione è una relazione una delegazione del comitato scuole sicure per Isernia ha incontrato Fernando Guida per illustrare al rappresentante territoriale del governo la precarietà e l'insicurezza del quadro relativo agli edifici scolastici della città durante l'incontro si è parlato inizialmente delle scuole medie e successivamente delle scuole superiori soffermandosi sugli elementi deboli di ciascun edificio in particolare l'attenzione è stata focalizzata sul fermi sul quale il comitato si è soffermato a lungo illustrando quanto emerso dalla documentazione ricevuta dalla provincia il prefetto nell'esaminare la documentazione ha rassicurato il comitato sulla sua intenzione di approfondire presso gli uffici competenti gli eventuali nuovi elementi portati alla sua attenzione l'incontro è stato certamente positivo anche se non risolutivo ma era importante far sentire la nostra voce afferma il comitato che sottolinea la sua volontà di andare avanti e non si escludono nuove iniziative che coinvolgano la popolazione adesso affermano i genitori sulla base dei documenti ricevuti dalla provincia e di quelli relativi alle due scuole medie torneremo a chiedere alle rispettive amministrazioni ulteriori chiarimenti ed incontri stiamo anche valutando nuove iniziative popolari che illustreremo nei prossimi giorni in sostanza già ci si sta organizzando per la terza fase dopo la manifestazione popolare e l'incontro col prefetto ovvero un'assemblea pubblica e la presentazione di una petizione sottoscritta dai genitori delle medie e del fermi per chiedere nero sul bianco a comune e provincia di trovare una sistemazione immediata provvisoria e sicura per gli studenti in sostanza qualcosa del genere di quanto fatto a Cerro Volturno intanto mettere al sicuro i ragazzi e poi ragionare su dove e come fare le nuove scuole è chiaro che scrivere ufficialmente è un valore diverso da quello delle dichiarazioni di fronte ad una richiesta scritta suffragata da documenti ufficiali comune e provincia dovranno fare attenzione perché a quel punto nessuno potrà dire non lo sapevo sarebbero sarebbero almeno 5.000 le famiglie che in Molise hanno acquistato un immobile con un moto a tasso variabile nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008 vittime di tassi Euribor manipolati pronte a chiedere rimborsi per quanto indebitamente percepito dagli istituti di credito lo rende noto l'avvocato Luigi Iosa delegato regionale e responsabile dell'area penale di SOS utenti secondo il quale tutti hanno pagato interessi taroccati la sentenza della commissione europea antitrust spiega Luigi Iosa mette nero su bianco quanto già si sapeva nel 2013 la manipolazione dell'Euribor sottolinea il legale non riguarda solo i privati ma anche lo Stato italiano che ha sottoscritto derivati per 160 miliardi di euro e la regione Molise che a sua volta ha sottoscritto derivati per assicurarsi la stabilità del tasso di interesse su 300 milioni di euro presi in prestito dalle banche edizione record per l'andocciata di Agnone organizzata per celebrare l'anniversario dell'esibizione in piazza San Pietro il ricordo è stato rimarcato anche con l'intitolazione di una piazza a San Giovanni Paolo II e c'era per noi Sergio Di Vincenzo più passano gli anni più cresce l'interesse intorno all'andocciata l'antico rito del fuoco di Agnone che se in passato scaldava esclusivamente la notte della vigilia di Natale oggi è diventato un appuntamento fisso anche nel giorno dell'Immacolata per una serie di ragioni intanto perché si consente a migliaia di turisti di conoscere le bellezze dell'Atene del Sannio e dell'Alto Molise e poi perché questa data è legata a un ricordo sempre vivo nel cuore degli agnonesi 20 anni fa le indocci illuminarono piazza San Pietro per rendere omaggio a San Giovanni Paolo II proprio nel ricordo di un papa fortemente legato alla città di Agnone è stata organizzata l'edizione di quest'anno la risposta della gente è stata eccezionale vedendo tanta gente un'ora prima dell'amministrazione non era mai successo evidentemente San Giovanni Paolo II ci sta proteggendo perché oggi dedichiamo questa andocciata al ricordo indelebile della magica andocciata offerta in suo onore l'8 dicembre 1996 un piccolo dato lo scorso anno 140 camper quest'anno abbiamo superato i 200 abbiamo oltre 15 pullman quindi cedirà e cedirà di macchine quindi pettatori che possono aggirarsi sui 20.000 unità per rendere ancora più forte e indelebile il legame tra gli agnonesi e il papa a Giovanni Paolo II è stata anche intitolata una delle piazze più importanti della città una targa ricorderà per sempre la grande emozione provata da un'intera regione quell'8 dicembre di 20 anni fa tutto il Molise insieme davanti e dietro le nostre indocce ha celebrato il 50esimo anniversario di Giovanni Paolo II che si affacciò e salutò la diletta città di Agnone e tutto il popolo molisano e lo ringrazio in una uscita inedita perché un papa che si affaccia alle 20 della sera in piazza San Pietro non si è visto prima e dopo quindi un ricordo straordinario dopo l'inaugurazione della piazza il gran finale con le indocce e la suggestione del fuoco un fiume di torce ardenti si è insinuato tra le migliaia di persone in attesa regalando come sempre un grande spettacolo ancora una volta la città ha dato prova di grande maturità tutti hanno dato il proprio contributo non solo nell'organizzazione dell'andocciata ma anche nell'accogliere un numero così consistente di turisti vorrei veramente ringraziare la città di Agnone perché ci sopporta e sopporta questo compiacere questo evento si prepara ad accogliere le migliaia di turisti con uno spirito proprio di volontariato che non è uguali e questo è un evento ormai dell'intera regione molise Agnone può ripartire e deve ripartire dal turismo sicuramente l'andocciata è uno degli eventi che in qualche modo conferma questa circostanza e conferma che di turismo per il Molise soprattutto si può vivere aprirà i battenti domani alle 17 resterà aperta fino all'8 gennaio al museo dei misteri di Campobasso in via Trento la mostra la tradizione nel tempo i presepi di Giovanni Teberino anche quest'anno si rinnova l'emozione a Campobasso con la nona edizione della mostra la tradizione nel tempo grazie a Giovanni Teberino erede di una famiglia che a Campobasso vuol dire soprattutto misteri e che ormai da tempo regala in occasione del Natale le sue piccole opere d'arte proprio i suoi presepi ad accogliergli il museo dei misteri che custodisce gli ingegni per una combinazione di fede e arte sacra che fa unico il Natale e a partire da domani sera l'auditorium di Isernia la compagnia teatrale Cast riporterà in scena una commedia in dialetto locale ambientata nei mesi precedenti l'istituzione della provincia ne abbiamo parlato con l'autore Maurizio Veneziale le sentiamo ideata da Maurizio Veneziale senza parlare ci capiamo senza parlare ci capiamo è una commedia che con un pizzico di nostalgia proietta lo spettatore indietro nel tempo facendo rivivere le emozioni e gli stati d'animo di quando Isernia si lottava con grande entusiasmo e determinazione per ottenere l'istituzione della provincia nello spettacolo c'è davvero di tutto le manifestazioni di piazza i tafferugli ma anche le solite manovre sotterranee per raccomandarsi all'onorevole ottenere un posto di lavoro a fare la cornice c'è una storia d'amore clandestina è ambientata innanzitutto nel 1969 i primi mesi antecedenti l'istituzione della provincia di Isernia quindi parla un po' di questo periodo storico dove si lottava per ottenere questa famosa istituzione e quindi dei vari eventi che si susseguono vengono tutti contestualizzati in questo periodo è fatta più che altro di equivoci si sorride abbastanza irriverente come commedia quindi ne abbiamo già presentato un anno e mezzo fa e avevamo avuto il soldato addirittura quindi abbiamo deciso di riproporla chi ha vissuto quel periodo ci si ritrova Isernia è stata diciamo che secondo me da quel periodo storico ha avuto una variazione che non possiamo definire né evoluzione né involuzione semplicemente un cambiamento che ha caratterizzato un po' tutta la società Isernina la commedia sarà portata in scena dagli attori della compagnia teatrale Cast la regia come sempre è stata affidata a Salvatore Mincione Guarino mentre le scenografie curate da Angelo Montella e Paolo Roberto danno un tocco di suggestione e realismo in più alle scene tre in tutto gli spettacoli in programma esordiamo domani sabato alle 21 e poi ci saranno le repliche domenica 11 alle 18 e domenica 18 scusate il gioco di parole sempre alle 18 e adesso andiamo a Montelongo dove la suggestiva tradizione in occasione della festa dell'Immacolata fa svegliare tutti in piena notte per ricevere il pane benedetto le case del paese restano aperte a diverse famiglie e distribuiscono a tutti le piccole pagnotte rinnovando un rito che si perde nel tempo Fabrizio Occhionero una tradizione che coinvolge la piccola comunità di Montelongo e richiama in tanti anche dai paesi limitrofi una lunga storia la fede e la religiosità popolare diffuse in ogni angolo del territorio che portano persone di ogni età a svegliarsi in piena notte per rinnovare il rito delle pagnottelle dell'Immacolata il pane preparato dalle famiglie dal forno del paese viene benedetto al termine della messa della sera del 7 dicembre celebrata dal parroco Don Giovanni di Cursi le ceste vengono poi portate nelle case in attesa della distribuzione che inizia dalle 4 del mattino le famiglie più agiate una volta facevano in casa il giorno prima dell'Immacolata le pagnottelle per darle alle persone bisognose e non solo alle persone del posto ma venivano anche dai paesi del circondario alle ore proprio preste del mattino verso le 3 le 4 e lo ricordo con molta chiarezza questo fatto perché mia madre ha sempre portato avanto questa tradizione e quindi sin dalle prime ore del mattino la gente si recava per chiedere il pane poi si sono aggiunte anche altre caratteristiche nel senso che qualche famiglia ha fatto questa tradizione come per esempio io la condino come segno di devozione di una grazia particolare verso la Madonna un appuntamento che si rinnova e unisce le generazioni rinnovando l'identità di un piccolo centro e il senso di appartenenza a un territorio che custodisce un patrimonio di risorse comunicare questo distribuire ricevere questi pani confezionati da loro significa che è un gesto di fraternità di comunione tra di loro ma certamente nasce sempre l'origine di questa festa dalla solennità dell'immacolata concezione di Maria la tradizione è andata avanti rispetto agli anni passati non è cambiato nulla l'unica cosa è meno gente perché siamo diminuiti come popolazione però lo spirito la tradizione la voglia è la stessa anzi bisogna riconoscere a questi ragazzi della Prologue non che hanno cercato di ravvivare la tradizione e con la suggestiva tradizione a Montelongo in onore dell'immacolata concezione termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte telegiornale a telegiornale a telegiornale Grazie a tutti.